dietro di me abbiamo a mai energia la società che si occupa della raccolta rifiuti a sanremo la città è sporca e sotto gli occhi di tutti dobbiamo migliorare il decoro urbano lo faremo con una squadra di pronto intervento che sarà attenta a tutte le rimostranze dei dei cittadini non voglio più vedere sacchetti per la strada e voglio conferire 24 ore su 24 lo possiamo fare risparmiando città europee di pari grado a sanremo hanno già cambiato sistema al netto di fare la raccolta differenziata per legge ma dobbiamo farlo insieme ai nostri dipendenti perché il capitale umano va valorizzato formato e dobbiamo lavorare come squadra per raggiungere i risultati